Io dico agli amici del Popolo delle Libertà, guardate, un partito quando vede che il suo leader ormai ha esaurito la sua funzione, gli dice devi andare a casa. Se non è incapace di dire questo, non è un partito, è il seguito del capo e finirà insieme col capo.